i racconti di masha mi sto guardando nello specchio piccolini miei wow sono davvero bella ma non tutti sono così fortunati ricordatevi che la bellezza è solo superficiale la vera bellezza viene da dentro la fiaba che sta per raccontarvi parla proprio di questo cameron il coccodrillo finalmente ti ho trovato un pacco per te ciao io ho un amico si chiama sketch un maglione è proprio un regalo pieno d'amore per te che ci fai qui il suo maglione si intona bene con questa sciarpa